SIGLA Ok, ecco qua. Ma come fai a dormire con queste luci? Di che cosa hai paura? Io non vedo niente. Ok, controllo mostri completato. Esiste da sempre, secondo me. Nascosto. Nell'oscurità. Sono solo quei terribili mostri che pensi che si nascondano sotto il tuo letto. Non è reale. Che cos'è? È la cosa che viene a prendere i tuoi figli quando volti lo sguardo. Tu almeno mi credi. Vero? Quando ci sono cose spaventose che non capiamo, la nostra mente cerca di riempire i vuoti. A volte la cosa migliore da fare è affrontarla. Allora, questa luce, al momento, come vedi, è assolutamente costante. Poi gradualmente inizierà a lampeggiare fino alla più totale oscurità. Vedrai che non c'è niente di cui avere paura. Ok? Vedi? Non è così spaventoso, no? Ci sei tu, c'è tua sorella e ci sono io. Tutto bene? Non è reale. Tutto ok? Tutto ok. È tutto solo nella tua testa. Siti, c'è qualcosa in camera mia? Tu almeno mi credi. Vero? Tu devi capire che non esistono i mostri. Perché non cresci un po'? Dico sul serio, Sawyer, voglio stare da sola! Tutte e due avete queste manifestazioni. Che cosa dovrebbe essere? È la cosa che viene a prendere i tuoi figli quando volti lo sguardo. Papà, tu devi darmi ascolto! Va bene. Sto ascoltando. Papà, dovete andare via. Tesoro, ci penso io. Qu'è? Schnellene Qu'èippo? Grazie a tutti